Presidente, dicono che dal caos solitamente può nascere qualcosa di buono, ma questa probabilmente è materia per filosofi. Ma ogni tanto succede, ogni tanto no. Qualcosa di buono bisogna costruirlo, capire quali sono le condizioni di questo Paese, non solo dal punto di vista della governabilità, ma anche delle cose da fare. Credo che il centro-destra, che ha attraversato una fase difficile ed è sopravvissuto in un momento in cui tutti lo ne avevano perspacciato, abbia un compito importante, che è quello di dare un'indicazione positiva, non solo la guida della protesta, ma anche la proposta. Dal bipolarismo siamo passati a una sorta di tripolarismo con il ciclone Grillo, che anche qui in regione si conferma come il primo partito. Non dica che si aspettava. No, non me l'aspettavo in queste dimensioni. Tanto di cappello, un risultato elettorale fuori dalle previsioni. Adesso però mi aspetto che in quell'area politica prevalga un senso di responsabilità, perché alla fine bisogna risolvere i problemi, governare e affrontare le questioni. E comunque sarà una forza politica con cui bisogna fare i conti. Ma non c'è dubbio, siamo in una fase tripolare, non più bipolare, questo bisogna prendere atto, piaccia o non piaccia. L'attenzione si sposta ora alle elezioni regionali, tra due mesi. Che armi sta affilando, oltre all'effetto tondo evidentemente la scelta regionalista? Ma non credo che ci sia altro da fare che governare bene. Ecco, io credo che in questi cinque anni abbiamo fatto delle scelte importanti. Si può fare ancora qualche cosa in quest'ultima parte della legislatura, spiegare alla gente cosa abbiamo fatto e far capire che abbiamo governato con onestà, con competenza, in un momento difficile. E poi la comunità valuterà se quello che abbiamo fatto è stato positivo o meno. Ma io confido che una regione come la mia ci sia un senso di responsabilità che raccoglie certamente il voto di protesta, ma lo trasforma in una fase attuativa, propositiva, perché di questo c'è bisogno.